Bentornati cinefili e benvenuti a coloro che capitano qui per la prima volta, dogazzo stalate fino al prossimo. In questa ennesima puntata, come avvenuto per le precedenti che potete recuperare nel canale, vi consiglio una serie di film che ogni ferreo appassionato di cinema dovrebbe assolutamente vedere almeno una volta nella vita. Sempre ammesso che siate o vogliate essere ferre e appassionati di cinema, si intende? Ebbene, anche stavolta vi parlerò di 20 titoli che per un motivo o per un altro che scopriremo in corso d'opera si possono considerare particolarmente notevoli ed imperdibili per i rispettivi decenni e per il corso dello storia del cinema. Pertanto, preparate Popcorn e Bibita e andiamo a scoprire insieme due titoli per ogni decennio partendo dagli anni 20 del periodo muto e finendo negli anni 10 del nuovo millennio. Eccoci dunque a 20 film imprescindibili per un cinefino. Parte settima. Il cinema scorre di nuovo. Puoi acquistare su Amazon il mio libro Violent Cinema. Tracce di violenza nel cinema contemporaneo. Link per l'acquisto nelle info sotto al video. Annoiato dalla moglie, dal figlio e dalla monotonia della vita contadina, un uomo subisce il fascino di una provocante ragazza di città e cerca di attuare un piano per fuggire assieme. Il primo film americano del tedesco Murnau è un melodramma amaro e poetico lambito vagamente dalle tonalità della commedia, che si ammanta di romanticismo tragico e squarce il realismo con più di un momento di grande forza visionaria. In tal senso la scena in cui i due coniugi attraversano la giungla urbana mentre lo scenario attorno a loro muta è un pezzo di bravura in anticipo sui tempi. E un po' in anticipo sui tempi lo è il film per come tratteggia la nostalgia dell'amore, le tribolazioni della solidità di coppia, il confronto tra città e campagna, tra certezze familiari e desiderio di evasione. Pur meno celebre e celebrato di Freaks, questo The Unk Known è un altro tassello antecedente per Browning in cui la diversità deve fare i conti con l'orrore. Con uno straordinario long shunny tra i volti più inquieti ed inquietanti del cinema muto, il film si muove in un'ambientazione circense in cui è protagonista un lanciatore di coltelli, privo di braccia, che però non è altri che un criminale sotto falsa identità. Un perfetto mix di noir e melodramma tragico, una sorta di ammirevole prova generale per il successivo Freaks e pertanto imprescindibile da riscoprire nel novero di un periodo storico che tratto il film con eccessiva sufficienza. Opera cardine di molto cinema dell'orrore della sua epoca, questo iconico adattamento del celebre romanzo di Mary Shelley con una grandissima cura scenica, il bianco e nero che fa gioco di meravigliosi ritagli di luce, con curiose e velate allusioni allo scienziato rappresentato come Dio in terra. Il primo ufficiale Frankenstein della storia, pur con qualche didascalismo nella sua narrazione, è decisamente passato agli annali, soprattutto per l'iconografica prova attoriale di Boris Karloff e della sua maschera. I bulloni al collo e la testa deforme e piatta, opera di un grande lavoro di make-up, un morto dal volto dolente, maltrattato dall'assistente del dottore, ad esempio, ed emarginato dalla società che non riuscirà ad accoglierlo. Se l'universo del cinema di mostri, con figure come Dracula, l'uomo lupo, l'uomo invisibile e affini, ha proliferato e anche grazie e soprattutto al successo che ebbe il film di James Whale. Uno dei più grandi melodrammi della storia del cinema, Via col vento, è una vera e propria epopea drammaturgica che si avvolge in un affascinante e arioso Technicolor per una durata di circa quattro ore e rappresenta uno degli emblemi del colossal hollywoodiano. Al netto di qualche limite strutturale e qualche sottotraccia ambigua, venuta particolarmente alla luce nei tempi odierni in linea con la cultura walk, il film prodotto da Selznick incarna un pezzo di storia americana ed anche un pezzo di storia del cinema americano, inevitabilmente, imprescindibile. Anche per il suo essere incastonato nell'iconografia collettiva a partire dalla monumentale colonna sonora, la più lunga che sia stata composta per un film. Uno dei più grandi classici del cinema d'animazione, nonché uno dei più universalmente apprezzati dei lavori Disney, Il Pinocchio del 1940 è un vero e proprio balocco dell'animazione, velato da una tenera malinconia e il perfetto racconto di infanzia a cui non mancano momenti caricaturali, altri quasi terrificanti per lo sguardo di un bambino. Sul piano tecnico fu un ulteriore passo in avanti rispetto al già innovativo Biancaneve, ma è sul piano della fantasia favolistica e nella caratterizzazione dei personaggi secondari che Pinocchio mette in apice tutti gli archetipi che caratterizzeranno da lì in avanti tanto cinema d'animazione di tutto il mondo. La canzone When I Wish You Upon A Star è diventata talmente iconica da essere divenuta la sigla stessa di casa Disney. Uno dei più grandi autori del cinema giapponese, forse il più grande dopo Akira Kurosawa, Kiasujiro Hozu, è stato un grande narratore della società e del nucleo familiare del Giappone fin dall'epoca del muto ma in particolare modo nel dopoguerra. questo Ban Shun del 1949 è un punto fermo nella sua filmografia, un'opera che segnerà la sua filmografia per stile e temi in maniera definitiva. È il racconto di una giovane donna che deve distaccarsi dal padre vedovo il quale teme per il suo futuro da zitella. Molti dei film successivi del regista, da Tardo Autunno a Il Gusto del Sake, sua opera ultima, saranno una sorta di variazione sul tema e pertanto, pur se meno stimato internazionalmente del suo successivo viaggio a Tokyo, Tarda Primavera risulta una sorta di must per la filmografia di un autore imprescindibile per la storia del cinema. Uscito dal riformatorio, finitoci a causa della sua innata passione per le armi, un giovane conosce e sposa una ragazza circense che si esibisce con le armi da fuoco. Insieme decidono di suggellare l'idiglio rapinando banche e vivendo nel crimine. Ma il crimine paga? Pur essendo un film meno ricordato di quanto meriti, è una sorta di precursore del noir moderno, questo B-movie del 1950, incarna il prototipo della coppia criminale amorosa, modello Bonnie e Clyde, che troverà definitivo suggello di incarnazione con Gangster Story di Arthur Penn. È un film dallo spirito genuino e sempre ben oliato a livello narrativo, in cui il regista Lewis sopedisce ai mezzi risicati con ingegno nell'uso del materiale filmico, come testimone delizioso pieno sequenza della prima rapina che parte dalla ripresa in auto dei due protagonisti, e vici resta inquadrando il resto dell'azione dallo sportello, ricreando così i meccanismi della suspense e del dinamismo attraverso l'attesa in tempo reale. La storia di questo film neorealista si svolge nella campagna bengalese negli anni venti e ruota attorno ad Apu, un ragazzino di povera estrazione che deve lottare per la sopravvivenza della sua famiglia, la quale si trova in un terribile stato di povertà ai margini della foresta. Primo capitolo di quella che è la trilogia di Apu, che il regista completerà nel 59 raccontando le fasi adulte del suo antieroe, questo film del 1955 è un manifesto del cinema off Bollywood, lontano da quel cinema imbellettato, brillante e popolare che veniva fuori dal cinema indiano, e rappresenta la sorprendente opera d'esordio di colui che diventerà uno dei massimi registi del cinema indiano a livello internazionale. Le tribolazioni ed il peregrinare di Accattone, un borgataro romano che sfrutta la sua donna e campa alla giornata raggirando all'occorrenza anche i suoi stessi amici, eterni sfaccendati come lui. Il film desordio di Pasolini è una versione proletaria e dalla fascinazione liturgica dei vitelloni di Fellini, in cui le miserie e gli sbagli dei suoi protagonisti, in una società maschilista che riduce le donne ad essere succubi di fannulloni, riescono comunque ad essere tratteggiati con una pietà ed una umana caritatevole empatia. E qua e là una sarcastica ironia, un canto poetico e dolente, ironico e beffardo accompagnato in musica classica con la struggente passione, secondo Matteo, di Johann Sebastian Bach, Affare da Traino, in cui Pasolini fonde il neorealismo, il racconto popolare, la parabola, religiosa, senza soluzione di ottimismo per i propri martiri in terra in cerca di una vacua assoluzione dai propri peccati. Probabilmente uno dei migliori esordi cinematografici mai fatti e senza dubbio tra i titoli più ficcanti del cinema italiano del decennio. Pur poco conosciuto in Italia, rispetto ai suoi meriti, questo film giapponese, composto da quattro novelle del terrore, è un vero e proprio capolavoro di splendore visivo. Il film di Kobayashi restituisce lo spirito delle storie di fantasmi con un senso della messa in scena innovativo ed unico per la sua epoca, con uno stile che mescola il classico ed il visionario elegante e suggestivo e uno dei titoli più eclatanti che il Giappone abbia presentato nel pur florido decennio degli anni 60. A metà tra l'horror popolare e l'arte figurativa, tratto peraltro da un testo letterario, vanta delle bellissime scenografie come ad esempio il cielo con gli occhi del secondo episodio e degli splendidi cromatismi ed eleganti movimenti di macchina da presa oltre ad un'ammirabile cura di suoni e musiche di fondo. Uno dei titoli più suggestivi dal punto di vista di un fascino ancestrale misterioso, questo racconto ottocentesco di giovani donzelle di un istituto cattolico che si vedono avvolgere da una curiosa sparizione in un assolato picnic estivo ai piedi del monte che dà il titolo al film, sprigiona ancora oggi un alone di seduzione e di mistero irrisolto. Al suo interno, sviluppato come un classico dramma in costume dall'intreccio quasi giallo, permea un senso di riflessione su oppressione e liberazione sessuale. Il racconto sembra fare perno sull'opposizione tra l'atmosfera vittoriana, con la rigida disciplina del collegio, in un lindo edificio d'epoca e la natura rigogliosa della selvaggia Hanging Rock. Il risultato è un film che avvolge nelle sue immagini, nelle sue sonorità, nei suoi ambienti, che non può lasciare indifferenze. Il resoconto di cinque giorni in cui si sussegue una grande giostra di 24 personaggi che fa perno sul festival canoro della musica country and western nel capoluogo del Tennessee, Nashville, dove si svolge anche un grande comizio per le primarie delle elezioni presidenziali. Considerato uno dei film cardine del cinema americano degli anni 70, è un film corale di oltre due ore e mezzo in cui protagonista è non solo la musica, con più di 25 canzoni strempellate tra cui la bellissima I'm Easy di Kate Carradine premiata con l'Oscar, ma è protagonista all'America stessa inquadrata dall'occhio documentaristico e sarcastico di Robert Altman. Frammentario, agrodolce, attento ai suoi autori, è uno dei grandi film corali del suo regista, manifesto di un'epoca e di un contesto sociale che si muove sul largo territorio a stelle strisce, per quanto ad oggi forse è difficile da estrapolare dal suo contesto per lo scorrere del suo racconto in cui le canzoni, per i meno avvezzi al genere musicale, rischiano di strabordare. Tuttavia, un piccolo manifesto del cinema americano del suo decennio a cui ogni cinefilo dovrebbe dare almeno un'occhiata. Uno dei titoli di maggiore culto del suo decennio, il film di Landis, è un alfiere della comicità scatenata e del musical chiassoso e spensierato, con una coppia di protagonisti, gli iconici Jake e Helwood, interpretati da John Belushi e Danny Croyd, capaci di entrare nell'immaginario collettivo per il loro look e i loro atteggiamenti. Con i memorabili interventi di grandi personaggi della musica rock and blues, da Ray Charles a James Brown, passando per a Rita Franklin, solo per citarne alcuni, è un perfetto bivacco di scansonata ilarità in cui i tempi del road movie, della satira, della farsa demenziale e del musical surreale si fondono insieme con grande senso del ritmo e stile nella messa in scena. Una delle opere cardine del cinema dell'orrore, alfiere di una certa politica concettuale sui mali del tubo catodico e sulla mercificazione della violenza mediatica, il film di Cronenberg è un incubo corporale e metaforico che ha sancito il cinema del decennio e di quello successivo. Diversi momenti immemorabili, come la scena della seduzione subliminale del televisore, divenuta vero e proprio lampo di culto per gli estimatori del genere, forse il film più importante del suo autore, a sua volta uno degli autori più viscerali e sofisticati del panorama horror contemporaneo. Pertanto visione imprescindibile per gli amanti del genere e non solo. Una delle più potenti storie di redenzione e autodistruzione viste al cinema è Il cattivo tenente di Abel Ferrara. Storia di un tenente di polizia corrotto e drogato che scuote la propria coscienza quando deve indagare sullo stupro perpetrato ad una suora. Fede, perdono, remissione dei peccati, il film di Ferrara, interpretato da un memorabile Harvey Keitel in una delle sue performance più impressive, è il perfetto ritratto di un antieroe disgustoso che cerca di ritrovare una via di riscatto ed un posto nel mondo meno ombroso, salvo dover fare inevitabilmente i conti con la violenza di strada e con i propri errori. Uno dei film più controversi e spietati del decennio, ma al contempo tenero nella sua condanna, nel suo oscillare tra inferno e purgatorio senza retrocedere di fronte a nulla, tra cui un intensissimo monologo in chiesa rabbioso davanti ad un disarmante Cristo sceso dalla croce. Uno degli autori più impressivi ed amati venuti fuori dalla decade è sicuramente il giapponese Takeshi Kitano, a cui ho dedicato un intero speciale in uno dei video sul canale e del quale avevo già consigliato il meraviglioso L'estate di Kikujiru come opera più universale in una delle puntate precedenti. Il suo quarto lungometraggio, Sonateen, è quello che ne definisce e fa esplodere definitivamente lo stile e la poetica. Raccontando il declino di un piccolo gangster, relegato su un isolotto per un'ultima missione, questo delizioso film amalgama perfettamente la commedia dai lampi stralunati e il noir dagli esiti tragici. Il risultato è un yakuza movie antitetico e agrodolce che passa dal naif al minimalismo estremo, in cui la violenza fa capolino come fulmini a ciel sereno, ma in cui c'è spazio per la tenerezza in quella che è un'allegoria gentile e funesta ambientata in un microcosmo criminale. Un vero e proprio film unico. Le vicende della famiglia Tenenbaum. Il padre Royal Tenenbaum si scopre affetto dal cancro. La sua ex moglie da sempre nutre una relazione clandestina con un vicino di colore. I tre figli si ritrovano nella casa di famiglia con i loro guai. Il film che ha sancito stile e poetica del regista Wes Anderson, uno degli autori più amati della cinefilia odierna, ed uno dei più sofisticati fautori della forma scenica del cinema del nuovo millennio. The Royal Tenenbaum è un film ancora meno stiloso e ammaliante sul piano di simmetrie, colori, invenzioni sceniche rispetto ai titoli successivi, ma è senza dubbio l'opera che inizia a definire ambizioni e stile, oltre che probabilmente il suo titolo meglio equilibrato sul piano degli ingredienti, dal tenero al tragico, dal malinconico al buffo, dal grottesco al realistico, coadiuvato da un cast sorprendente e da ottime scelte musicali. Pertanto un titolo imprescindibile per comprendere al meglio uno dei più levigati registi del cinema contemporaneo. Uno dei più alti e levigati divertissimi del nuovo millennio, e senza dubbio uno dei film più amati della filmografia post-anninovanta di Tarantino, questo Inglourious Busters è un giocattolone ricco di riferimenti, che gioca con la storia, quella con la S maiuscola, ribaltandola dal suo interno e con i generi cinematografici, passando da riferimenti al western, alla nouvelle vague, dal cinema muto alla commedia più pura, con una capacità narrativa fuori dal comune e con una scrittura di personaggi invidiabile, su cui spicca indubbiamente il personaggio del colonnello Hans Landa, tra i più iconici venuti fuori dalla settima arte in questi ultimi decenni. Uno di quei titoli che è riuscito in tempi brevi a divenire un caldo assoluto della sua decade, e pertanto una visione imprescindibile. Con un prologo di grande impatto visivo, che già ci riassume simbolicamente il tutto che accadrà nel seguito del racconto, con Wagner in sottofondo ed immagini bellissime da vera e propria mostra fotografica, Lars von Trier dirige forse il suo film più maturo, attraverso il racconto di due sorelle rispecchia la fine di un'umanità, come fossero due corpi, una sola anima, con un nucleo che ha reminiscenze quasi bergmaniane. Uno dei titoli più riusciti di quello che è tra i principali autori contemporanei, nel senso più assoluto del termine, capace di dividere e farsi amare da schieramenti opposti. Melancolia è senza dubbio tra quelli che più unisce ed accomuna il parere della critica e che possa avvicinare anche una fetta di pubblico più restio. Pertanto un film imprescindibile, quantomeno per avvicinarsi ad uno degli autori più interessanti degli ultimi trent'anni. Opera numero 5 del giovanissimo regista canadese Shavir Dolan racconta le perigliose ed intime vicende di una madre e suo figlio. Lei vedova piacente, aggressiva e apparentemente anaffettiva, lui adolescente con un mezzo complesso edipico e con un deficit mentale che lo porta a non controllare la rabbia. Nelle poco più che due ore di durata ripercorriamo un rapporto madre-figlio viscerale, controverso, tenero, travagliato a tratti quasi commovente. Mammy, premiato a Cannes con il premio della giuria, è un film sorprendentemente realistico e deliziosamente emotivo, coadiuvato da un eccellente utilizzo della colonna sonora e da un originale utilizzo del formato di ripresa, uno a uno, in cui lo schermo e la cinepresa non danno vie di scampo agli attori, alle loro espressioni, alle loro perturbazioni emotive. L'ho raccontato nel miglior modo possibile con un finale che ha il sapore di cult istantaneo. Uno dei titoli più interessanti per far scoprire ed impattare uno degli autori più talentuosi del nuovo millennio. E voi? Vi avete visti questi venti titoli? Scrivete nei commenti quali vi mancano e quali avreste inserito. Lasciate un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata.